Premio della cultura barba, tron del premio poetico nazionale e anche televisivo, evviva la mamma! Premio Barazzo Barba, il suo organizzatore della core e il giornalista Giorgio Fracantonio. Consegnato sabato scorso presso la base della Marina Militare Italiana d'Augusta il premio Ribaudo, un riconoscimento consegnato a vari protagonisti della vita sociale ed artistica scelti nei vari campi. Tanti personaggi premiati, tra questi anche il nostro Giorgio Fracantonio, quale patron del concorso internazionale di poesia, evviva la mamma! Il premio è stato consegnato dal maestro Ribaudo in persona. Ai nostri microfoni la testimonianza di alcuni tra i protagonisti. Il mio secondo anno questo premio Ribaudo, ma il mio quarto anno la presentazione di un altro premio che è stato il papà di questo, che è il premio Rubens. Siamo all'interno della Marina Militare che ospita per il secondo anno consecutivo questa manifestazione che intende premiare e conferire riconoscimenti ai migliori figli isolani che si sono chiaramente distinti in diversi ambiti che spaziano dalla culturale allo sportivo, all'impegno sociale, alla musica e tantissimi ospiti che aglieteranno questa serata. Serata che vi ricordo è dedicata alla lotta contro il femminicidio perché concomitante con la ricorrenza del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Rientra in un'iniziativa che noi di solito proponiamo per questo contatto con la società civile di Augusto in particolare, che è una città che ci ha sempre ospitato e che in questo modo ci permette di porre risalto questi personaggi di grande spicco come ad esempio il maestro Ribaudo che per noi è veramente un punto di riferimento importante dal punto di vista artistico ma anche umano. Io sono dell'idea come maestro di tennis, ho organizzato in passato dei trofei Umberto per esempio, il maestro Umberto Fosmorti di Catania e ho organizzato un torneo, non alla memoria, alla vita e poi è durato 25 anni. Comunque cosa dice? Dice tutto perché chi l'ha organizzato, il direttore artistico Belfiore, crede in quello che sta facendo nell'organizzare appunto questo premio che già è giunto al secondo anno e l'occasione per rimettere insieme tanti amici e quindi alimentare la cultura. Grazie Grazie a tutti